A regime il tempo delle gare, il finanziamento l'abbiamo già avuto per cui nei prossimi 4-5 mesi avremo anche le altre 10 disponibili per le altre municipalità. E' importante perché il futuro, la parte più importante anche con il nuovo contratto di servizio è proprio l'igiene della città, per cui sempre per una città più pulita e più accogliente. E' continuo il programma di ampliamento dello spazzamento meccanizzato, così come avevamo ipotizzato e progettato, grazie ai finanziamenti, grazie allo sforzo dell'amministrazione della SIA. Questo è il primo di un'apparecchiatura elettrica, ne prenderemo 10, per quanto riguarda la pulizia del centro storico. Un apparecchio completamente elettrico e come potete vedere le dimensioni consentono di penetrare nelle stradine, nei vicoli della nostra bella città e quindi approntare uno spazzamento più ecologico, più silenzioso ma anche più accessibile nelle nostre stradine. Entra in funzione nel centro storico la prima spazzatrice elettrica in dotazione ad ASIA. Oltre ad essere particolarmente indicate per la loro dimensione allo spazzamento delle strette strade del centro, la motorizzazione elettrica comporta zero emissioni durante le fasi della raccolta dei rifiuti. Saranno in tutto 10, quindi, sulle 20 in arrivo, previste nella nuova dotazione. Si fa un passo in avanti nello spazzamento, che negli ultimi anni ha sofferto anche una carenza di personale, una spazzatrice ecologica in tutti i sensi, elettrica, ottima per le zone a traffico limitato e per i vicoli del centro storico della nostra città. Un passo avanti importante nella direzione di rendere la città sempre più pulita e più vivibile.